tè freddi frullati frappe smoothie e sono quelli che si fanno di più durante questo periodo estivo noi oggi andremo a fare uno smoothie però senza acqua senza ghiaccio semplicemente così frutta frutta volontà io ho scelto la pesca l'anguria e l'uva mi sembra un ottimo abbinamento che cosa ne dite vado a testare per la prima volta il mio frullatore il mio mixer e la black and decker non è una sponsorizzazione questo l'ho acquistato mi sembra l'ho pagato 7 euro se non erro l'ho acquistato attraverso i punti di un catalogo di un distributore della benzina funziona benissimo pratico veloce unica pecca è che praticamente devi spingere il bottone devi stare lì e quindi non va da solo ho scelto di farlo semplicemente così ma volendo potete anche aggiungere dello yogurt dell'acqua del ghiaccio del miele poi insomma lasciatevi trasportare dalla fantasia e soprattutto dalla gola da tutto ciò che volete aggiungere io proprio vorrei di fare una cosa semplice anche così insomma assaporiamo tutto il gusto della frutta o della verdura perché no magari si può scegliere anche di mettere della verdura avete visto come semplice pratico da usare si toglie la parte con le lama e poi si mette praticamente il tappo che fa anche da borraccia quindi si può così portare in giro e bere il vostro succo la vostra acqua il vostro tè e tutto ciò che magari volete mettere dentro se vi è piaciuta quest'idea lasciatemi un like e se siete curiosi di scoprire tutto ciò che preparo anche per quanto riguarda le bevande tè eccetera sfogliate la nostra playlist dedicata appunto all'argomento